Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Detto questo ragazzi vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, detto questo sigla e poi ci diamo dentro quel video. Oggi ragazzi parliamo di un caso triste, ma un caso del genere potrebbe accadere anche in Italia, ecco perché ho deciso di parlarne. La protagonista della nostra storia si chiama Jimmy Clark, una donna che vive a Millie Knocket, un comune degli Stati Uniti, situato nella contea di Penobscot, nel Maine. Jimmy ha già tre figlie, è un matrimonio che non va affatto bene. Infatti Jimmy e suo marito avevano un rapporto già burrascoso, che si è concluso definitivamente quando la donna è rimasta incinta di un altro figlio, il quarto, che però non era del suo ex marito. Jimmy quindi rimane da sola, dà alla luce la sua quarta figlia e un giorno conosce Anthony Lord tramite degli amici comuni. Jimmy e Anthony si sono immediatamente piaciuti e la donna è rimasta molto colpita dal fatto che Anthony ci sapesse fare con i bambini. Era dolce con i suoi figli, giocava spesso con loro e inoltre era anche molto dolce nei confronti di Jimmy. La donna si innamora di Anthony proprio perché nei mesi l'uomo si dimostra molto empatico nei confronti dei suoi quattro figli. Li porta spesso a giocare, gli dedica davvero molte attenzioni e quindi Jimmy crede che sia l'uomo giusto per lei. Di conseguenza il passo successivo è quello di presentare Anthony alla sua famiglia e nello stesso giorno in cui Anthony entra in casa dei parenti e di Jimmy, sua zia la prende immediatamente da parte dicendole che girano voci davvero terribili su Anthony. In giro si diceva che fosse un uomo violento, che alzava le mani e per di più gli era stato impedito di avvicinarsi ai minori. Ma Jimmy lo osserva, lo scruta, ormai sono mesi che lo conosce e vedendo come si pone con le sue figlie non riesce proprio a dare adito a queste voci. Infatti Anthony all'inizio appare come una persona talmente tanto mite e gentile che qualsiasi persona avrebbe pensato che non sarebbe stato in grado neanche di uccidere una mosca. Fin da subito Jimmy non crede molto alle parole della zia e alle voci che girano su Anthony, però pensa una cosa. Se era vero che Anthony non poteva assolutamente avvicinarsi ai minori, avrebbe dovuto proteggere i suoi figli con tutte le sue forze. Jimmy quindi ha quel Carlo in testa che la perseguita. L'uomo che le si palizza davanti sembra tutto fuorché una cattiva persona. Ma la donna provò comunque a fare qualche ricerca per vederci un po' più chiaro sulla faccenda. I due, Jamie e Anthony, ovviamente ancora non vivono assieme. Anthony però va spesso a trovare Jamie, che quindi lo affronta. Chiedendogli immediatamente se è vero che gli hanno impedito di avvicinarsi ai minori. Anthony si fa improvvisamente serio e dice a Jamie che in realtà quello era stato un equivoco. Sì, molto tempo addietro era stato con una ragazza più piccola, ma sottolinea che era del tutto consensuale. Però la madre di quella ragazzina aveva di fatto sport o denuncia perché Anthony era più grande. Anthony comunque minimizza sulla faccenda, dice che la ragazza era più che consensiente e quindi fa una mossa. Decide di chiamare lo psichiatra che lo seguiva al tempo. Era molto noto a Bangor, una città che si trova sempre nel Maine. Quindi Anthony, una volta che lo psichiatra risponde, richiede di spiegare alla sua fidanzata quale sia il suo stato mentale attuale. Jamie viene tranquillizzata da questo psichiatra, che anche lui minimizza la grande. Le dice che i problemi di Anthony non esistevano neanche, che era stato un equivoco e che l'uomo non avrebbe mai fatto male a nessuno. Jamie quindi si tranquillizza, pensando addirittura di essere in difetto per aver dubitato del buon cuore di Anthony. E alla fine gli chiede scusa. Lui la tranquillizza dicendole che si era semplicemente comportata da madre e che quindi non c'era alcun problema perché questo dimostrava che lei amava davvero tanto i suoi figli. A questo punto Jamie è convinta che tutta la faccenda sia chiusa, che sia tutto a posto, ma la sua famiglia non la pensa come lei. Infatti, proprio dopo la discussione tra Jamie e Anthony, il padre di Jamie la va a trovare un pomeriggio e le dice le terribili voci che circolano proprio su Anthony. Le stesse identiche voci che le aveva detto sua zia quando aveva presentato l'uomo alla famiglia. Il padre di Jamie però non si limita ad avvisarla, le dice letteralmente che in gioco c'era la sua incolumità e quella dei suoi figli. È chiaramente davvero molto molto preoccupato. Poco dopo arriva Anthony che sorprende padre e figlia che parlano in salotto e per la prima volta mostra in minima parte la sua natura. Anthony quindi chiede quasi in tono accusatorio che cos'è che succede qui? Quando in realtà avrebbe dovuto solo farsi gli stracavoli suoi. Infatti il padre di Jamie gli risponde in modo alquanto ovvio. Sto parlando con mia figlia, mi è permesso? Anthony risponde in modo freddo, crudele. No, non ti è affatto permesso. Quella è stata letteralmente la miccia che ha fatto esplodere la bomba. Il padre di Jamie a questo punto si nervosisce, si alza e va verso Anthony. Dicendogli chiaramente che non avrebbe mai lasciato le sue bambine nelle mani di un uomo così tanto tanto crudele. Il padre di Jamie non vuole assolutamente che Anthony si avvicina a nessun membro della sua famiglia. Ma Anthony gli risponde, non mi importa nulla di quello che pensi o vorresti, non farti mai più vedere qui. Il padre di Jamie è preoccupato, ma la figlia non dà segni di mettersi contro Anthony. Quindi il padre di Jamie se ne va, lanciando però uno sguardo molto preoccupato verso sua figlia. A quel punto, nel pomeriggio, qualcuno bussa alla porta di casa di Jamie. La donna va ad aprire e si trova dinanzi alla polizia di Millie Knocked. Inizialmente Jamie è confusa, in quanto non ha mai chiamato la polizia. Però gli agenti la informano che erano lì per fare una verifica, perché qualcuno li aveva chiamati, avvisandoli del fatto che Jamie e i suoi figli dovevano essere controllati. I poliziotti quindi chiedono direttamente a Jamie se ci sono problemi. Ma lì c'è anche Anthony e quindi Jamie non può dire una sola parola. A questo punto gli agenti sono entrati in casa, hanno fatto un sopralluogo, hanno controllato le figlie di Jamie e poi se ne sono andati, non trovando nulla di sospetto. Una volta che la polizia esce dalla casa di Jamie, Anthony si dimostra davvero, davvero tanto irritato. E continua a dire a Jamie che quella chiamata sicuramente l'aveva fatta suo padre. Ecco perché non sarebbe più stato il benvenuto in quella casa. Peccato che ad Anthony sfugga un piccolo particolare. Quella non era casa sua, era casa di Jamie. Il fatto che più in basso è lì ogni tre per due non gli dava il diritto di obbligare Jamie a non sentire più suo padre. Ma anche in questo caso Jamie tace, abbozza e in un certo senso accetta l'osservazione piccata di Anthony. Ancora forse Jamie non se ne rende conto. Ma inconsciamente sa che sarebbe meglio evitare di parlare perché avrebbe potuto vedere Anthony davvero parecchio parecchio arrabbiato. Quindi a mio parere Jamie già lo temeva, anche se non voleva del tutto accettarlo. Peraltro inizialmente Jamie è davvero in collera con i suoi perché lei aveva visto con i suoi occhi Anthony con le sue figlie. Sapeva che era un uomo amorevole, che li trattava bene, quindi non si sente compresa. E inizialmente pensa che tagliare i ponti con i suoi genitori non sia un'idea tanto malvagia. Jamie sceglie Anthony e non la sua famiglia e smette di sentirli per davvero tanto tempo. Nel frattempo però il carattere di Anthony muta e inizia ad essere parecchio geloso e possessivo. Molte donne e ragazze purtroppo scambiano tuttora il possesso e l'ossessione con l'amore. Ma non è così. L'amore non equivale a provare una gelosia morbosa verso la propria partner. Non è assolutamente sana in un rapporto e può davvero portare a tragiche conseguenze. Questa cosa ragazzi, a prescindere dal caso che vi sto narrando, l'ho vissuto sulla mia pelle, quindi fate attenzione. Non scambiate ossessione e possessione per amore. Quello non è amore, è prevaricazione. Ed è il primo campanello d'allarme che dovrebbe farvi scappare a gambe elevate dalla persona che vi sta accanto. Comunque, passa un po' di tempo e Jamie si dimostra un po' preoccupata perché nei dintorni di casa sua c'erano stati dei furti. E lei purtroppo viveva in una casa alquanto isolata, era una madre single e per di più aveva anche dei figli. Una sera quindi, Jamie chiama Anthony semplicemente per dargli la buonanotte. Però lui le dice di non attaccare il telefono. L'uomo le dice, lascia acceso il telefono e metti una viva voce. Così sarò sicura che saprei bene. Inoltre, se sento un rumore, posso chiamare immediatamente la polizia. Inizialmente Jamie crede che quella sia una cosa carina, quindi mette il viva voce al telefono e lo appoggia accanto al cuscino. Il problema è che quella situazione non si conclude in quell'unica sera in cui Jamie si dimostra un po' preoccupata. Col passare del tempo diventa una vera e propria abitudine. Questo di fatto è il secondo campanello d'allarme a mio parere. Anthony voleva avere il pieno controllo anche quando non era a casa di Jamie. Ma Jamie non se ne rende conto. Crede che sia una semplice richiesta innocente. E comunque non le costava nulla, lei avrebbe comunque dormito ugualmente. Con o senza telefono e viva voce. Quindi accetta. Passa altro tempo e a questo punto Jamie chiede direttamente ad Anthony di trasferirsi da lei. Dicendogli che sarebbe sicuramente stato più tranquillo a vivere con loro. Jamie pensa che quella sia la scelta giusta da fare. Pensa che quella scelta l'avrebbe resa felice. Ma non ha idea di cosa l'aspetta. E infatti poco dopo iniziano a crearsi delle situazioni gravi. Tanto gravi. E Jamie di fatto non riesce a sfuggire da quella situazione perché Anthony oramai convive con lei. Infatti l'uomo era già fortemente geloso all'inizio della loro relazione. Ma soprattutto Anthony era geloso dell'ex marito di Jamie. Anthony voleva essere una figura paterna per i figli di Jamie. Peccato che loro avessero già un padre. Quindi un giorno l'ex marito di Jamie va a trovarle. E di fatto c'è un battibecco su una stupidaggine. Madeline, una delle figlie di Jamie, vuole un ghiacciolo. Però il suo ex marito si inserisce nella discussione dicendo Ma no, ha già mangiato troppi zuccheri per oggi. Niente ghiacciolo. Anthony però vuole andargli contro a tutti i costi. E quindi dice a Madeline che in realtà gli sarebbe andato a prendere il ghiacciolo. A questo punto l'ex marito di Jamie si avvicina ad Anthony e gli dice Amico, non sei suo padre. Magari vivi qui. Ma suo padre sono ancora io. Anthony in questo caso inizia a tirar fuori la sua vera natura. Inizia a inveire contro il padre di Madeline. Inizia a dirgli E se ti facessi sparire? Sarei in grado, sai. Non ti troverebbero più. Jamie per non far scoprire una brutta situazione Si mette in mezzo e cerca di trattenere il suo ex marito Dicendogli di stare tranquillo, di non aizzare Anthony. L'uomo quindi se ne va. Ed Anthony sente di aver vinto. Anche questa volta. Più il tempo passava, più aveva il controllo non solo su Jamie Ma anche sulle sue figlie. Però dopo aver subito quelle minacce da Anthony L'ex marito di Jamie chiede la custodia delle tre figlie E la ottiene Jamie è incazzata come una iena Quindi affronta Anthony Dicendogli che il suo ex marito aveva ottenuto la custodia delle figlie Solo e soltanto per colpa sua e delle sue minacce Di fatto solo Madeline può rimanere con Jamie Proprio perché il marito non aveva richiesto la custodia della bambina E quindi gli hanno permesso di tenerla A questo punto Anthony minaccia letteralmente Jamie Le dice che se era una donna intelligente E se teneva la sua famiglia Non l'avrebbe assolutamente lasciato Inizia quindi a fare la stessa identica cosa Che aveva fatto nei confronti dell'ex marito di Jamie E dice che i suoi genitori erano anziani E abitavano in una zona alquanto isolata E lui sarebbe stato in grado di farli sparire tutti Dal primo all'ultimo A quel punto Jamie si infuria ancora di più E lo schiaffeggia Ma capisce ben presto che quella mossa Era la peggiore che avrebbe potuto fare Perché Anthony è molto ma molto peggio Jamie a quel punto capisce che avrebbe dovuto fare tutto ciò che le ordinava Anthony O la situazione sarebbe peggiorata E lei non ne sarebbe assolutamente uscita vincente Era in trappola con quell'uomo Arriva poi un'altra sera Jamie ed Anthony erano in salotto a casa Con un amico di Anthony Stavano bevendo un drink Sottolineo L'amico non era di Jamie Ma di Anthony Tutto pareva andare bene Fino a quando Anthony non obbliga l'amico a fare cosacce Con Jamie Esattamente davanti a lui E poco importa se Jamie non era d'accordo con la cosa L'amico di Anthony Non si è fermato Anthony di base godeva nel vedere Jamie soffrire Traeva piacere da quello Jamie alla fine è corsa in bagno Ci si è chiusa dentro E si è messa a fare una doccia Mentre sentiva chiaramente Anthony e il suo amico Ridersela in salotto Si stavano addirittura prendendo gioco di lei Dopo aver fatto quel gesto Vile, crudele e meschino E' proprio da quella sera Che Jamie inizia a pensare A come scappare Però si rende conto che le conseguenze in gioco Potrebbero essere davvero davvero tante Ma soprattutto Potevano essere molto molto gravi I suoi familiari Potevano correre dei pericoli gravi Così come il suo ex marito O le sue figlie Quindi Jamie Non ha avuto il coraggio di scappare Da quel momento La situazione Peggiora ulteriormente Anthony poco dopo quella sera Porta in casa Una ragazza Ossia Cindy E pretende che entra a far parte della relazione Insomma Anthony in questo caso Voleva fare le cosacce a tre E anche in questo caso Poco importava se Jamie Non era d'accordo O si faceva come diceva lui O la situazione sarebbe davvero peggiorata Per Jamie Inizialmente Jamie E' convinto che l'arrivo di un'altra donna Avrebbe distolto L'attenzione di Anthony da lei Ma In una situazione intima Anthony chiede a Cindy Di colpire Jamie Cindy si rifiuta Ovviamente E quindi Anthony La caccia in malo modo Jamie Per la prima volta Guarda quella donna E prova invidia per lei Anthony le aveva permesso Di andarsene Mentre lei era ancora intrappolata con lui Man mano che il tempo passa Anthony stringe sempre di più Una morsa attorno a Jamie Dicendole letteralmente Che tutto quello che faceva Avrebbe dovuto farlo In sua presenza Si lavavano insieme Se Jamie cambiava stanza Lui la seguiva La seguiva addirittura Anche in bagno Non le permetteva Di sentire sua madre Se non in sua presenza E con il viva voce Però Un giorno Jamie Sa che Anthony Ha lavoro Quindi decide di chiamare Sua madre Ovviamente senza che lui lo sappia Peccato che l'uomo Manco avesse uno sesto senso Si presenta a casa Un po' prima dal lavoro E scopre Jamie Parlare con sua madre al telefono Per terra C'era una bacinella Piena d'acqua A metà In quanto Jamie Stava lavando il pavimento Ed Anthony Quando la scopre Parlare con sua madre Le prende il telefono di mano E glielo butta letteralmente Nella bacinella d'acqua Davanti ai suoi occhi Jamie a questo punto Per più di un mese Non ha avuto contatto Con nessuno Non poteva ricomprare un cellulare Ed Anthony Non le permetteva Neanche di cercare lavoro Insomma Jamie era letteralmente Prigioniera di Anthony In casa sua Per di più Con una bambina piccola Da crescere Perché se ricordate Madeline È rimasta con lei Anthony aveva pieno controllo Su tutto Anche sui soldi Che entravano in casa E Jamie a questo punto Si rende conto Che è totalmente Sotto il suo dominio Poi Successivamente Pochi giorni dopo Anthony Porta a casa Un'altra donna Brittany Irish Era in effetti Un'amica di Anthony La stessa Jamie L'aveva vista Un paio di volte E lui Aveva da sempre Una cotta per lei Jamie quindi Sa che tra di loro Non vi è una semplice amicizia Ma non si preoccupa affatto Anzi La donna spera che Anthony Inizia ad entrare In ossessione Per Brittany Così finalmente L'avrebbe lasciata andare Jamie vedeva Uno spiraglio di luce In fondo al tunnel Sperava davvero Che sarebbe potuta Andarsene via Con sua figlia Gli avrebbe anche lasciato la casa L'unico suo pensiero Era quello di allontanarsi Da quell'uomo orribile Anthony però Ha tutta altra idea in mente È un bel pomeriggio C'è il sole E Anthony Brittany E Jamie Stanno facendo Uno spuntino in giardino Fino a quando Anthony Non se ne esce Con questa esatta frase Sapete che c'è? Dovremmo avere dei bambini Entrambe le donne Non prendono sul serio La proposta di Anthony Tanto che Jamie Risponde in modo scherzoso Ma io ho già figli A quel punto Anthony Diventa serio E dice Tutte e due Dovreste darmi dei figli Non credete? Anthony aveva proposto Di avere dei figli Con entrambe E l'aveva detto seriamente Non potevano Che assecondare Le sue follie In quel momento Ma Brittany Ben presto Capendo che Anthony Non ci stesse molto bene Con la capoccia Passò baracche e burattini E se ne va Dicendo che aveva Acchiarito Col suo ex fidanzato Kyle E aveva deciso Di riprovare A stare con lui Perché avevano dei figli Ma Anthony Soffre Nel non poter avere Il benchimimimo controllo Su Brittany E purtroppo Jamie Ne paga le conseguenze Anthony inizia ad essere Davvero violento Alcuni giorni Erano migliori di altri Ma in ogni caso Anthony Alzava le mani Regolarmente Su Jamie La donna a quel punto Inizia a sentirsi Realmente senza speranza Pensate che Anthony Arriva persino A morderla Fino a farle uscire Del sangue Jamie inizia a vivere Quel terrore assoluto Ogni mattina Quando si svegliava Malediva quel giorno Ha addirittura Pensato di farsi giustizia Da sola E farlo fuori Ma Jamie non era capace Non sarebbe mai stata In grado di fare Una cosa del genere Quindi Jamie inizia Ad escogitare Un piano diverso Chiedendo a Anthony Se può quantomeno Provare a cercare un lavoro Ed Anthony Da quella richiesta Vede solo Un potenziale guadagno I soldi li gestiva Comunque interamente lui E quindi Quella sarebbe stata Un'entrata extra Che avrebbe potuto Spendere per i cavoli suoi Jamie però Nel frattempo Pensa che avrebbe potuto Guadagnare dei soldi Proprio per scappare Andarsene lontano Da tutti Con i suoi cari E non guardarsi Più indietro Jamie quindi trova il lavoro Però arriva una sera Una sera in cui Arriva a casa Dieci minuti più tardi Del suo solito orario Anthony è già alla porta La sta aspettando E appena vede Jamie Le urla Vieni immediatamente qui Appena Jamie entra Tenta immediatamente Di spiegare a Anthony Che il suo capo L'aveva semplicemente Tratenuta dieci minuti In più a lavoro Ma non riesce neanche A dire la prima parola Perché Anthony Le mette le mani al collo E la strozza Fino a farla svenire Quando la donna Riprende conoscenza Vede sua figlia Madeline Piangere Mentre cerca di svegliarla E mentre urla Mamma Mamma Svegliati Che ti succede A questo punto Jamie prende la bambina E fugge dai vicini Loro non avevano idea Di cosa subisse Jamie Ma appena aprono la porta Jamie si è precipitata Dentro casa loro Con Madeline in braccio Si convincono a chiamare La polizia Grazie a Dio I vicini di Jamie Hanno anche il porto d'armi E quindi Non si fanno problemi A tirare fuori la pistola Quindi Il vicino di Jamie Jamie punta la pistola Proprio contro Anthony Appena lo vede Davanti casa sua A quel punto Il tono di Anthony Si fa più tenero Inizia a recitare La parte Dell'uomo che Jamie Aveva conosciuto All'inizio Della loro relazione Però Jamie non ci casca La polizia arriva Lo arresta Ma il giudice Lo condanna Da appena tre mesi di carcere Purtroppo per i casi Come quelli di Jamie Quella era la durata massima Della condanna Però il giudice Ha emesso un ordine Restrittivo temporaneo Sia per lei Che per le sue bambine Ma questo non ferma Anthony Che appena viene rilasciato Segue Jamie Ovunque Passava con la macchina Davanti a casa sua Accostava dall'altro lato Della strada E la osservava Per ore Jamie ha provato A chiamare la polizia Ma di fatto Anthony rispettava L'ordine restrittivo Imposto dal giudice Non lo valicava Per appena Pochi metri Jamie in ogni caso Si sentiva perseguitata Aveva addirittura Messo tre serrature Per ogni porta Della sua casa Inoltre Per non vederlo Perennemente Dall'altro lato Della strada Jamie è costretta Perennemente A tirare le tende Questo però non basta Jamie è terrorizzata E pensa sempre Alla peggiore Delle ipotesi Fino a quando Non arriviamo Al 17 luglio Del 2015 Quando Anthony Esplode del tutto Jamie la sera Prima si era dimenticata Di caricare il telefono Quindi si era Semplicemente spento Appena lo mette Sotto carica E lo accende Viene tempestata Da un sacco di notifiche C'erano davvero Numerosi messaggi Sia da parte Di sua madre Che da parte Di sua zia Neanche fa tempo A leggere quei messaggi Che il telefono squilla Dall'altro capo Dall'altro capo del telefono Jamie sente proprio Sua zia Che le chiede Se va tutto bene Perché Anthony Ha perso Del tutto La testa Jamie chiede quindi Cosa vuole dire Sua zia Che diavolo Aveva combinato Anthony Anthony aveva sparato Cinque persone Due avevano perso La vita Tre si erano salvate E per di più Ha rapito la sua amica Brittany Irish A quanto pare Anthony la vedeva Ancora saltuariamente E girava voce Sul fatto che lei Ogni tanto Andasse a trovarlo Quella sera Dovevano vedersi Ma così non è stato Perché Brittany Gli ha detto che non poteva Quindi quella situazione Ha di nuovo fatto infuriare Anthony Che di nuovo Sentiva di aver perso Totalmente il controllo Oppure essere eluso Di avere del controllo Su Brittany Preciso che Brittany Era la stessa ragazza Che aveva ricevuto Quella folle proposta Da Anthony Di avere dei figli Con lui e Jamie Quindi la mia domanda è Perché Brittany È tornata a frequentarlo Purtroppo Non possiamo avere risposte Per questa domanda A questo punto La polizia Convoca Una conferenza stampa E davanti ai media Comunicano che stanno cercando Quel sospettato Che ha fatto fuoco Contro quelle 5 persone Si chiama Anthony Lord Ha 35 anni È alto 1,80 Pesa 118 kg Ha i capelli biondi E gli occhi azzurri Ovviamente la polizia Chiede ai cittadini Di farsi avanti In caso L'abbiano visto Ma Anthony Era totalmente sparito Jamie dopo aver saputo Della cosa Non ha più voluto Saperne Nulla Non ha cercato Nessun'altra notizia Si era semplicemente Trasferita in un'altra casa In gran fretta Con sua figlia Ed era rimasta nascosta Sperando che Anthony Non la trovasse Poco tempo dopo La polizia Trova Anthony E si crea Un inseguimento Ad alta velocità Dove alla fine Ovviamente vince la polizia Che lo arresta Brittany Irish Si salva E rilascia una dichiarazione In media Spiegando che Anthony L'aveva portata In un capanno Abbastanza isolato L'aveva legata E gli aveva stretto Al collo Una cintura E poi infine Aveva fatto violenza Su di lei Purtroppo Una delle cinque persone A cui Anthony Aveva sparato Era proprio Il ragazzo di Brittany Kyle Hewitt Che purtroppo Non ce l'aveva fatta Dopo l'arresto Sotto interrogatorio Anthony Ammette Che aveva pianificato Di fare la stessa cosa Anche ai danni di Jamie Se l'avesse trovata Avrebbe sparato anche a lei Senza alcuna remora Qui si conclude La storia di Anthony Lord Che viene accusato Di duplice omicidio E viene condannato All'ergastolo Ragazze ragazze Questa storia Secondo me Si può considerare Una storia Abbastanza banale Ma sappiamo Quanto siano presenti Questi casi Anche in Italia Ecco perché ho deciso Di parlarne Perché Questa storia Racconta La storia di Jamie Che si è salvata Che ce l'ha fatta Che è tornata a vivere Purtroppo Non tutte Sono fortunate Quanto Jamie Vi prego Vi prego Vi scongiuro Imparate a riconoscere Quegli uomini Che non vi trattano Come donne Ma come oggetti Da possedere Perché quello Non è amore Quello Ripeto È prevaricazione State molto attente E appena vedete Qualcosa che non va Non abbiate paura Di girare i tacchi E andarvene E io In questo caso Posso dirvelo So di che cosa parlo Non sto dicendo Che qualcuno Mi abbia messo Le mani addosso Però purtroppo Ho vissuto Una relazione tossica E non posso far altro Che dirvi Di fare attenzione Perché questa è L'unica cosa Che posso fare Detto questo Ragazzi e ragazze Spero che questo video Possa essere stato Di vostro gradimento Noi ci vediamo Prestissimo Il prossimo video Io vi mando Un bacione Mi raccomando Fate i bravi Mandate sempre le verdure Ma soprattutto Ricordate che L'occhio critico Vi osserva Grazie a tutti